ed eccoci di nuovo in cammino buongiorno amici anche oggi ci sono tanti chilometri da fare sono le 6 e 40 e ci mettiamo in marcia mi trovo a desenzano del gatta e vediamo dove arriviamo oggi ah no aspettate quel lago guardate l'alba di un nuovo giorno moltissimi chilometri sul lungo lago bello e colombare il comune di sirmione comune video serveriato ragazzi qui non si possono fare cose strane perché si è osservati guardano giusto per fate stare tranquillo e lo so lo so stiamo saltando a piedi pari sirmione che mi è stato consigliato di visitare però sarebbe allungare abbastanza e non mi pare il caso comunque magari non lo so ci si tornerà un'altra volta magari con la macchina appena visto che stiamo anche a breve lasciamo la lombardia e entriamo nel veneto come sa ora di far colazione dai prendiamo qualcosa buon appetito a me ah e dopo una buona colazione siamo di nuovo in marcia il sole incomincia a già scaldare un pochino ne ho letto il cappellino immaginiamo 8 chilometri e 3 vabbè non lo vedete ma in maniera molto anonima abbiamo lasciato adesso la lombardia che siamo entrati in veneto direzione peschiera del garda e senza rendermi conto sono entrato già a peschiera del garda vediamo com'è questa cittadina sono quattordici chilometri e quattro che abbiamo già percorso in tre ore quindi questa prima parte della giornata l'abbiamo fatta tutta lungo il lago e continuando comunque si continua a fare il lungo lago quindi ancora pianura peccato per il traffico guardate là in fondo bello eh che bello peccato per il tanto traffico ma è una bella cittadina mi piace si proprio bello però sapete cos'è che non ho incontrato da quando sono partito non dico oggi dico in generale i bagni pubblici ancora non ho visto un bagno pubblico lo dico perché ne avrei bisogno andato in un altro bar prendo un orzetto per usare il bagno guardate carina 30 piedi bella e ci sono anche barche già più impegnative comune di Castelnuovo del Garda qui c'è un po' di spiaggia la noce l'ho portata la sabbia e a pensare che non ho ancora mai messo i piedi a mollo ammetto che sto riprendendo poco ma c'è nel senso c'è poco da vedere sempre un po' non per lamentarmi è un po' monotono lago passeggiata tanta gente probabilmente tanta gente siamo arrivati a 20 chilometri in 4 ore e 14 tutta pianura si fa abbastanza bene e che bel motoscafo peccato gli manca un albero sennò sarebbe anche bello e si continua a camminare lungo la spiaggia proprio spiaggia spiaggia a destra sempre e soltanto campeggi tutto pezzo camminiamo addirittura sulla sabbia non proprio il massimo per i tendini ma a breve dovrebbe migliorare comunque il risultato è che mi sento la sabbia nelle scarpe guardate quanta gente è proprio un posto super turistico questo non ho veramente capito dove sono ma magari prima di lasciare questo posto lo sgamo ok allora San Google Maps ci ha svelato che ci troviamo a Lazio se non so se si conosce così è mezzogiorno quasi mazza il bicicletto e magari pranzo qui e poi si continua anche se credo che pranzare qui non sia proprio intelligente vista la gente i turisti non credo no non ci siamo proprio ho chiappato anche il mercato quindi no cerchiamo di uscire il prima possibile da sto paese o città così è veramente troppo è una città bella bellissima cioè guardate che spettacolo guardate che spettacolo ma troppo 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 cioè talmente tanto che ho deciso di mettermi la mascherina perché veramente siamo in tanti ok sinceramente se lo sapevo non sarei assolutamente passato di qui già molto meglio dai e si continua e siamo arrivati a Cisano e mi tocca cercare un posto dove mangiare perché se no si rischia di rimanere a bocca asciutta guardate che spettacolo e a panza piena si continua e siamo arrivati a Bardolino finalmente guardate la gente che c'è che ancora sta a pranzo è una ruota so che per voi sarà difficile distinguerlo però qui siamo a Garda che è il paese che dà il nome al lago ma io ragazzi non so il perché ci sono delle città dei comuni molto più grandi eppure Garda dà il nome al lago se lo sapete scrivetemelo sotto nei commenti beh ammetto che è un comune col suo fascino è carino eh però cioè è un comune piccolo perché dà il nome al lago e siamo arrivati a 35 km sono 8 ore che cammino e De Senzano è laggiù in fondo abbiamo già fatto tutto sto gran giro figata eh però le gambe incominciano a farse sentire abbiamo lasciato la spiaggia finalmente ragazzi dico così perché sono 8 ore e mezza che cammino lungo la spiaggia mi ero un pochino annoiato diciamo anche se poi dai sotto allo scoppio del sole come adesso invece adesso saliamo un pochino credo che siano gli unici metri in salita che ci sono oggi e dovremmo arrivare a un punto panoramico guardate che bello finalmente un pochino d'ombra il sole è bello ragazzi eh però dopo un po' via te coce adesso siamo sopra la punta San Vigilio guardate un po' che spettacolo guardate che bello tutte le persone del mondo tutte le persone normali adesso sono giù nell'acqua calmi si divertono e io invece a fa merda però non ci piace così guardate sotto guardate lì sotto eh guardate che bello finalmente lontano dalle grandi masse su un sentiero quasi tutto nostro ed ecco dove ci fermiamo a dormire questa notte siamo arrivati a Torri del Bennaco e qui ci fermiamo per la notte cerchiamo un alberchino dai e abbiamo fatto 42 km e mezzo in 10 ore dai anche oggi va bene per la notte per la notte la camera penso più cara, con 134, 124, poi è carina dai, mi sa che però stasera non lavo perché tanto domani è l'ultimo giorno, poi vado a casa e faccio la lavatrice, stavolta abbiamo addirittura un bidet, una bella stanza, un po' troppo cara, però questi cavoli dai, le ferie si fanno una volta all'anno dai, certo tutto pulito, tutto cambiato, con queste scarpe che sembrano più di nessuno, andiamo a esplorare un pochino il paese, ok allora sono stato anche in farmacia a prendere l'ibrufene che ho un doloretta alla caviglia e penso che si sia un po' infiammata, comunque niente di preoccupante, anzi mi sta andando molto bene, però dai ormai c'è una certa, adesso andiamo a vedere un pochino com'è questo paese che dovrebbe essere molto caratteristico e visto che comunque oggi ne abbiamo fatti meno di chilometri di ieri, se fanno una passeggiata bello bello bello, veramente una marea di gente, o una lagea di gente e oggi ci trattiamo particolarmente bene dai, e taglioni enelastici, molto bene molto simpatica, il cassiere al ristorante, quando sono andato a pagare mi ha chiesto in quanti eravamo a mangiare, io ho detto dai non ho mangiato così tanto, insomma, comunque niente è andata anche questa giornata, domani tenterò l'impossibile, non vi voglio svelare troppo, ma nel prossimo video lo vedrete voletevi bene, a presto e ciao ciao